stand mv pieno di gente moto da corsa moto da strada ma soprattutto piloti factory lorenzo zanetti quest'anno io mi ricordo un lorenzo zanetti che a un certo punto ha detto no io con le quattro tempi proprio non riesco a guidare smetto poi ti sei invece messo di buzzo buono e adesso sei lì che giochi il mondiale ogni anno com'è andata fammi un bilancio di questa stagione ma diciamo che già da subito dai test invernali mi sono trovato meraviglia con la moto il team aveva accorto a braccia aperte quindi questo forse è servito fin da subito avere un buon feeling già che in australia l'abbiamo aperto col secondo posto e doppietta che per mv era storica dopo abbiamo riscontrato qualche problema nelle gare successive però ci siamo messi in impegno abbiamo dato tutto e alla fine penso che il podio finale sia più che meritato sia da parte mia che per mv che mi ha dato fiducia senti cosa vuol dire per te dicono sempre perché il pilota italiano con la moto italiana dà qualcosa in più è vero il motivo principale per cui sono venuto in mv a parte credere nel progetto è perché vincere da pilota italiano su una moto italiana penso che sia impagabile specialmente su su un mv augusta che dei tempi di agostini quest'anno l'ho sfiorato non ci sono riuscito e quindi quello un po mi brucia però insomma abbiamo fatto sei podi e ce la metto tutta senti stagione del 2006 sta già iniziando perché adesso tu sei qui ma tra poco parti e vai a fare subito i test diciamo avete degli sviluppi e cosa t'aspetti ovviamente si va sempre sempre fare un passettino in più ma loro stanno lavorando molto bene appunto partiamo già le valigie pronte domani siamo già a gerez e dove proviamo lunedì e martedì abbiamo delle piccole evoluzioni perché ovviamente il mondiale superbike non permette grosse modifiche però questo è un segno che la casa sta investendo che che vuole vincere quindi quara ci vogliamo un po di dati e in vista per poi a gennaio dove dove proveremo le ultime evoluzioni senti la dietro c'è la superbike di cammier un pensierino zanetti la superbike ce lo fa ma io sì ce lo faccio sempre però prima vogliono che vinca qua ok senti per tutti gli amici dell'ecma tu sei uno di casa sei un italiano questa questa fiera questa esposizione è fantastica piena di gente consiglio dovete venire dovete venire tutti quantica perché penso che sia la anzi non penso è la fiera più importante al mondo per il motociclo e piene moto novità eventi gara di cross di tutto quindi venite tutti e occhio alle due ruote